L'ho scritto pure da qualche parte però ecco ci piaceva pubblicamente ringraziarvi per questo dono che è una cosa per noi estremamente importante anche perché ci serve per dare un servizio migliore alla gente poi perché questo noi facciamo. Ecco allora vi ringrazio e vi ringrazio anche per la serata che ci farete passare. Grazie.